Sarà per l'ampiezza degli spazi o per il sole splendente il cielo terzo? Sarà per il calore dell'accoglienza o per l'energia del simpatico Ares? Per la comodità delle sale, per l'abilità con cui Antonio mescola il risotto o forse per il profumo della pizza? Fatto sta che a prima vista la quattro exodus di Casale Litta tutto sembra fuorché una comunità protetta, un luogo sociale di recupero e solidarietà, di lotta al disagio e costruzione di futuro. Eppure è proprio così. La comunità quattro exodus è una comunità di carattere pedagogico riabilitativo che nasce con l'obiettivo di offrire accoglienza a 20 uomini con un passato difficile alle spalle. I nostri ospiti infatti hanno dei problemi legati alla tossicodipendenza e alcuni di loro anche con la devianza, tant'è che molti dei nostri ospiti stanno scontando in maniera alternativa attraverso appunto un percorso di recupero la propria condanna. Subentrata nel 2018 per gestire la cascina immersa nella quieta e verde frazione di Villadosi, a quattro exodus si è concentrata inizialmente su lavori e ristrutturazioni. Dopodiché nel 2020 ecco esplodere il Covid con tutto il suo bagaglio di sofferenza, restrizioni e incertezze. Ma nessuno ha pensato di arrendersi, anzi la sfida è stata raccolta e vinta. Nel marzo di quello stesso anno la nostra equip, senza neanche tante remore, ha quindi deciso di trasferirsi in comunità e vivere H24 con i nostri ospiti. Questa scelta nasce con l'obiettivo primario di tutela, considerando il target della nostra utenza. e secondariamente anche per dare un segnale di vicinanza in un periodo così difficile e complicato. Sono sbocciate così le attività che oggi rappresentano il pane quotidiano della comunità. I laboratori di falegnameria, riuso e pasticceria, la cura delle aree pubbliche in collaborazione col comune, la gestione dei traslochi, nonché la preparazione di pizze e focacce. Ieri un gioco, oggi un mestiere. Poi abbiamo scoperto con il tempo che quel divertimento, perché è nato un po' con quell'obiettivo, in realtà poteva essere una vera e propria occasione, per i nostri ospiti, che attualmente godono anche di un inserimento lavorativo, proprio grazie a questa attività, e anche per il territorio, perché poi di fatto tutto è nato, perché la nostra pizza siamo riusciti, con quello che è poi diventato il giro consueto dei vicini, che ad oggi facciamo tutti i giovedì, ad essere un piccolo dono di vicinanza, appunto, in un periodo così complicato. Perché qui, ci spiega Marco, non ci limitiamo a curare il disagio. Il nostro compito è infrangere il pregiudizio, seminare il cammino che porta a una nuova vita e restituire un posto nel mondo. Cerchiamo di abbattere ogni giorno lo stigma, ecco. Lo stigma è il pregiudizio che ci circonda. Sicuramente la nostra comunità, per tossicodipendenti o ragazzi che stanno scontando una pena, è una realtà, tra virgolette, scomoda, ecco. È un'utenza un po' particolare. E quindi noi, con tutte queste attività, cerchiamo di avvicinare, di avvicinare i nostri ragazzi il più possibile a quella che è la vita reale. La vita reale è fuori dalla comunità, non è sicuramente dentro. E se c'è una persona che incarna al meglio spirito e peculiarità di Quattro Exodus, è sicuramente Andrea, protagonista di un passato travagliato, di un presente sereno e di un futuro radioso. Ormai conosco questa realtà da 18 mesi. Arrivo come misura alternativa dal carcere, è stata la mia scelta. E col tempo mi hanno dato modo di sperimentare nuovi lavori, nuove attività che vanno da fare la legna, fare le pizze, dagli sgomberi ai traslochi. E col tempo è nata in me quella voglia di poter iniziare a creare una collaborazione con loro e poter dare un'opportunità ai ragazzi che vengono qui, che non hanno avuto la mia fortuna e si vogliono rimettere in gioco nella loro vita. Quindi dare la possibilità di insegnargli un lavoro e di portarlo avanti nel tempo. È tempo di salutare e congedarsi, ma qui torneremo senz'altro, per la cordialità, la simpatia e per il profumo di speranza che ti rimane attaccato addosso insieme a quello della pizza.